Non lo so cosa vorrà fare il Presidente del Consiglio e gli altri della maggioranza, però se non viene a fare un piano di recovery fund che ha una visione, che ha un obiettivo da qui al 2030, noi sicuramente non saremo della partita. Abbiamo già dato la disponibilità a ritirare i ministri. Su questa stessa logica si lega al livello regionale. Noi in questo primo anno abbiamo sostenuto una serie di azioni. Il milione e mezzo messo a disposizione per gli studenti delle università toscane, Siena, Firenze, Arezzo, di un milione e mezzo per i dottorati di ricerca. I 20 milioni di euro che sono andati in bilancio si ristori per tutta una serie di attività, ma che si sono aggiunte, agenzie di viaggio, gli ambulanti, che prima non erano stati inseriti. Poi il problema della riqualificazione del patrimonio di vizio di stenza, dove è stato previsto che su quel patrimonio c'è la possibilità di ampliamento fino al 20%, modificando quelle che fino ad oggi erano le normative urbanistiche previste a livello regionale. E tante altre piccole cose, il sostegno alle proloquie di 250 mila euro. Quindi la nostra azione Italia Viva, che malgrado abbia un consigliere, un assessore e evidentemente il Vice Presidente del Consiglio, ha svolto una serie di azioni. In agricoltura poi ci sono delle cose interessantissime, si è sbroccato il piano degli ungolati, stiamo intervenendo e mi auguro anche per la nostra provincia si abbiano determinati tipi di ritorni. A questo problema si lega poi anche come noi vogliamo essere presenti, Italia Viva di Arezzo. Io sono il coordinatore insieme alla mia collega coordinatrice Bianca Patrussi e noi in questi mesi ci siamo trovati a prendere questo incarico il 7 di luglio. Ci siamo trovati nel bailam delle elezioni regionali e chiaramente ora cercheremo invece di entrare nella parte più organizzativa andando a strutturare su tutto il territorio la nostra presenza. E dall'altra parte, da un punto di vista politico, vorremmo invece svolgere un'azione mirata a tenere insieme su questo territorio quelle che sono l'area politica del riformimento, i riformisti.